Ciao a tutti, sono Ridwan e sono un delegato di Sicobas. Allora, quello che è successo a Granarolo normalmente non dovrebbe succedere, perché io personalmente sono un delegato di Sicobas e sono andato lì solo per vedere la situazione e vedere come è andata la cosa, perché quegli ragazzi di Granarolo sono gli scienziati, poverini, non hanno soldi, non hanno niente, vogliono solo lavorare, non volevano niente, volevano solo il vostro diritto umano, non vogliono niente, non vogliono andare a spacciare, a fare le cose brutte, vogliono solo lavorare. Noi chiediamo questo aiuto a tutti gli italiani, stranieri, tutto il mondo chiediamo questo aiuto, che dobbiamo essere uniti, dobbiamo, non lo so, le parole mi complicano, capito? Allora, io vorrei che tutti vengano, il sabato, il primo febbraio, vengano a manifestare, in manifestazione chi sarà a Piazza dell'Unità, per farle vedere che noi siamo uniti e vogliamo solo i nostri diritti e la nostra dignità, che è molto importante, non è solo per noi, per voi e per tutti, e questo è il futuro d'Italia, questo è il futuro d'Italia, questo. E viva la vittoria, viva la vittoria!